Per cui io vi ringrazio per la presenza, siamo in pochi, come diceva con la trasmissione di Arbore, meglio pochi, non mi ricordo com'era il titolo, comunque il Presidente è sempre tra di noi. Grazie per la presenza, andiamo a cominciare. Emmet Cohen Trio. Emmet. Emmet Cohen Trio. 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 Grazie a tutti. 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 . a tutti. a tutti. . a tutti. 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 . a tutti. 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 a tutti.